Inizia il match tra Frosinone e Bologna, valido per la prima giornata della Gazzetta Football League. Subito Bologna in avanti con il suo numero 7 l'arbitro però ha visto un'irregolarità. Il Bologna prova all'imbucata il 7 verso l'8, non lo trova però e allora ancora Frosinone. Adesso attenzione qui un errore in impostazione, c'è il 7 che va al tiro, buona parata del estremo difensore del Frosinone che si fa trovare pronto nella prima occasione utile di questo match. Ancora Bologna in avanti, anzi no, può ripartire il Frosinone, no, non c'è la ripartenza. Adesso non si intendono però due compagni e dunque pallone riconquistato dal Frosinone. Qui c'è il capitano, il 10 che gira verso il 16, ancora lui, il 16 va al tiro murato dalla difesa del Bologna. Prima chance anche per il Frosinone, calcio d'angolo, vediamo come si evolve, allontanato bene dalla difesa del Bologna. Qui può ripartire, anzi no, non c'è il contropiede del Bologna, si fa trovare pronta la difesa del Frosinone. Attenzione qui, pallone recuperato sempre dal Bologna, rimessa laterale di nuovo per il rosso-blu. Chiama il tempo l'arbitro, viene fermato in attenzione ancora però al Bologna. Il tentativo è pallone che si spegne di poco a lato, corner per il Bologna. Non c'è però alcuna azione offensiva sul corner. Di Nolli nega la gioia del gol, resta in zona d'attacco il Frosinone che adesso può spingere. Calcio d'angolo battuto in questo istante, c'è adesso la ripartenza del Bologna, il contropiede che però non si chiude perché c'è il capitano che può lanciare i suoi, ancora il capitano, il 10, che va al tiro e trova la rete dell'1-0 Frosinone che sblocca il risultato con il suo numero 10. D'altra parte, ad eccezione del gol e di poche altre azioni. Attenzione qui, disattenzione di un giocatore del Frosinone che può far ripartire il Bologna. Ora il numero 8, che non trova però la via del tiro, adesso sì. Portiere del Frosinone che ancora una volta non si fa sorprendere. Adesso c'è il pressing alto del Bologna, Frosinone che però riesce a ripartire con il suo numero 8. va a fare a sportellate con un avversario, pallone recuperato dal Bologna, si lotta in mezzo al campo, ora non riesce ad intervenire il portiere, prosegue il 5 del Bologna, va al tiro, viene murato, ancora Bologna però, sempre con il suo numero 5, che va alla conclusione alta, sulla traversa della porta del Frosinone. 7, che per poco non conclude in rete. Ci avviciniamo ormai alla fine di questo primo tempo di gioco, ancora il Bologna adesso con il suo 7, che gira verso un compagno, l'imbucata in mezzo, occasionissima, sui piedi del 23 del Bologna, che non riesce a concludere in rete, pallone ora di nuovo tra i piedi dei giocatori del Bologna. Sempre Bologna con un corner già battuto e ben disinnescato dalla difesa del Frosinone. Frosinone che può ripartire qui, colpo di testa, che per poco non trova la porta, altra chance per il Frosinone. Va in tiro, mediato in fallo laterale, su cui c'è già Lotto, che va al passaggio, era andato alla conclusione un giocatore del Bologna, quartiere del Frosinone che manda però in corner, di nuovo già ancora un altro intervento dell'estremo difensore del Frosinone. Doppia chance ravvicinata per il Bologna. La sfera non troppo lontana dalla porta. Sempre Frosinone qui, con il 10, Rubino. Di nuovo Frosinone, che può ripartire adesso dal giocatore che aveva connesso precedentemente il fallo. Ora trova la rete del 2-0 dopo un'ottima azione personale. Firma il 2-0 del Frosinone, che rimanda all'indietro verso il capitano, Rubino. Però non riesce ancora, però, Frosinone che recupera con il suo numero 16, che va al tiro. Buona chance qui per il 16 del Frosinone, che aveva recuperato palla e si era fatto tutta la fascia fino ad arrivare a concludere, ma andando non troppo lontano dalla porta del Bologna. Pallone di nuovo nel possesso del Bologna. Qui tentativo dalla distanza del 23. Portiere del Frosinone, che è ancora una volta attento e manda in corner. Corner che si conclude in un nulla di fatto per il Bologna. Nuovo Frosinone qui con il suo numero 10, che manda al lato di poco. È stata però una deviazione da parte di un giocatore del Bologna. Dunque calcio d'angolo per il Frosinone, battuto in questo istante dal suo numero 10. Ancora il 10 verso il 7, che trova la rete del 3-0 Frosinone. Frosinone, che cala il Tris con il suo numero 7. O qui per il 7 del Bologna, che non è fortunato questa sera. Non trova neanche in questa occasione la gioia del gol. Sempre Bologna ora. Qui lancio lungo e l'arbitro fischia tre volte e dichiara conclusa la gara tra Frosinone e Bologna. Frosinone che vince per 3-0.